Synergy ritorna più forte di prima. Dal 27 ottobre al 5 novembre, grandi offerte sottocosto con prezzi imbattibili e tanti altri superprezzi fino al 20 novembre. TV LED Sharp da 40 pollici 100 Hz a 499 euro. Cellulare Samsung Quadribende Wi-Fi a soli 79 euro. Lavatrice Uber con display digitale a 399 euro. Notebook HP Intel Core i7 a 649 euro. E non finisce qui. Tantissimi altri prodotti a prezzi mai visti prima. E da Synergy compri oggi e paghi la prima rata ad aprile 2012 a tasso zero. Le nostre imperdibili offerte le trovi solo ad Avola, in Via Fontana 78, telefono 0931 83 12 10, aperto anche la domenica dalle 9 alle 12.30. Synergy di Sergio Salogna, il vantaggio di averci accanto.